che abbiamo raggiunto un buon di tutto bene c'è chi io piango forti emozioni, forti emozioni qui in streaming sono quei masterpiece trucci datemi le orecchie quei masterpiece che non si dimenticano facilmente e intanto grazie a Gigi D'Alessio abbiamo aumentato da 55 a 64 viewers quindi che dire, grande Gigi sono brutte persone quelle, devi sapere Kaiser in primis ma comunque partiamo intanto con il nostro game abbiamo ovviamente sul lato di sinistra quindi Team Blue gli Inferno Sports con la loro pick per esempio molto molto decisiva Zeratul Abathur e ovviamente dall'altra parte abbiamo i Fear Alley che ci delizieranno con un tassa da Runkelta se non con una combo di Joanna quindi non vedo l'ora di vedere intanto la First Blood da parte degli Inferno oh, non riescono a totalizzare con l'ultimo right click no, peccato potrebbe comunque riprovare da dietro magari magari con un cloak o su un'altra lane ci potrebbe stare Zeratul è sempre pronto è sempre in grado di ovviamente bustare qualsiasi tipo di lane ma io ovviamente passo a te per l'analisi tecnica secondo te qual è il problema maggiore che Zeratul dovrà affrontare su questa mappa? più che altro il problema maggiore qui è Tassadar se è usato bene riesce a spottarlo con molta facilità poi chiaramente anche gli altri player devono essere in grado di spottare Zeratul in ogni istante quando appunto sarà nelle vicinanze e qui adesso c'è da vedere appunto tutto come reagiranno i Fear Alley rispetto a una comp che fa parecchio male perché Zeratul se si posiziona bene lancia bene le sue abilità e soprattutto sui target giusti è allucinante è vero, è vero intanto avendo dato un'occhiata qui sulla middle lane diciamo la tattica migliore sarebbe mandare due ragazzi due eroi in Soa King sulla lane e successivamente prendere in solitario un solo templio in questo caso ci si può assicurare il massimo dell'experience il massimo del pushing potential magari gruppare tutti insieme risulta molto molto inefficace perché possiamo già vedere che livello 4 contro livello 3 beh ci sono delle forti forti differenze e ovviamente Abathor fare il suo forte forte meschino lavoro in bottom lane di split pushing ed eventualmente di Soa King XP infatti si vedono già le differenze scusami c'è da dire il semplice fatto che durante la fase dei templi i fear non sono stati per nulla incisivi perché non hanno preso XP in lane hanno semplicemente conquistato il templio mentre per quanto riguarda l'inferno si sono splittati perfettamente appunto hanno conquistato molta più XP però gli inferno ora hanno dovuto mollare quel tempio e la vedo un po' male la vedo un po' male perché potrebbero recuperare il giusto ammontare di XP ma soprattutto se continuano gli inferno diciamo guadagnare tempo essenzialmente doppieranno di bene infatti è già successo doppieranno di ben due livelli gli avversari perché Abathor in bottom lane sta facendo un ottimo lavoro di double-shocking dell'experience lo vediamo lì è presente sia col corpo sia con le sue locuste quindi diciamo è abbastanza incisivo per quanto riguarda invece Zeratul io spero di vederlo molto molto di più diciamo utilizzato verso i prossimi stage del game magari da livello 10 in poi per vedere se attualmente prenderà Void Prison o andrà per una classica build da full right click perché dico questo? perché essenzialmente hanno potenziato tantissimo la right click build di Zeratul ma veramente veramente tanto e vedremo se utilizzare eventualmente sequenza insieme a focus ed attack vedremo se prendere il Vampiri Strike o meno insomma ci sono tante tante nuove opzioni per Zeratul che gli permettono di essere molto più incisivo in fight e di avere molto molto più sustain adesso se tu fossi i FIAR cosa potresti fare? cosa utilizzeresti per sbloccarti in una situazione di diciamo di livello differente di due o un livello di differenza? beh in questo istante diciamo che è abbastanza stazionare la cosa per il semplice fatto che stanno cercando la kill fondamentalmente se sono sotto la cosa migliore da fare è andare a prendere un po' di obiettivi generici come appunto i campi che vabbè vanno presi con un timing preciso quindi adesso come adesso puntano tutti sull'Exp per poi andare a prendersi direttamente gli hard oppure gli easy in bottom lane sarà da vedere appunto come gestiranno la pressione che sta sotto cui sono sottoposti dagli inferno e vedremo cosa combineranno un'altra piccola cosetta su Zeratul sono curioso di vedere quale ultimate sceglierà perché ho visto ultimamente piccata non solo la bolla ma appunto l'assalto dell'ombra che è molto difficile da usare e appunto vedremo un po' se si riuscirà eventualmente a pullarlo sarebbe un grosso incremento del suo DPS e anche della sua diciamo presenza in teamfight a discapito dell'utility o della diciamo del spezzare il flow della teamfight che magari la bolla o più per meglio dire la void prison potrebbe avere perché con la void prison per esempio una situazione del genere tu potresti bloccare al cespuglio ben tre elementi e successivamente chiami una Jaina assetti una spell fai veramente grossi grossi tanni esatto con l'assalto invece fai simple DPS intanto si stanno lanciando Jaina ha aspettato il momento perfetto io se vai questo Zeratul vogliono l'Uter lo vogliono prendere lo vogliono no non mallate Uter non mallate Uter era una kill easy era una kill veramente veramente free da poter prendere Inferno che giocano fin troppo safe e questa cosa mi dà sui nervi perché potrebbero killare il mondo veramente veramente efficace ed eccolo lì eccolo lì Zeratul mi ha ascoltato mi ha voluto si è messo in dentro si è messo in gioco usa la bolla insieme ovviamente a Tyrell probabilmente adesso arriverà Yaya anche annullato l'ultimo un po' di miscommunication succede succede può esserci ci può stare specialmente quando stai vincendo ti fai prendere la fuga della fight ma potrebbero continuare Zeratul non può fermarsi qui Zeratul è una macchina e come tale dovrà andare in top a dare veramente veramente tanto fastidio al Keltas questa è un'altra particolarità Zeratul fa piangere Keltas ma tanto tanto Zeratul fa piangere tanti DPS squishy e nel tanto tempo che ho imparato a giocarlo è stato uno dei miei primi personaggi che ho acquistato su OTS è cambiato parecchio adesso poi con questi miglioramenti che ha subito è allucinante ha una combo spaventosa ha quella combo spaventosa con ovviamente sequenza perché puoi fare ricordiamo bene una spell fai 40% di damage aggiuntivo con il tuo right click subito dopo una spell quindi tu essenzialmente entri dentro con una bomba o una mine ok right click blink right click slash right click e veramente fai guarda una caterba di danni e ti permette di killare qualsiasi bersaglio su mappa ovviamente uniscilo a qualcosa come il giant killer beh ti ritrovi con una bella combo che può diciamo scombussolare anche i tank diciamo più ostici vedremo un po' come possono cavarsene sicuramente mi sta facendo emozionare questo Zera è un playmaker guardalo 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 che playmaker è là non ha neanche paura di un utile c'è da dire che ci sono anche tre livelli di differenza questo è vero questo è vero ovviamente il suo right click potential non sarebbe tale se non fosse per i livelli ma ti ricordo c'è anche un abatur c'è anche un abatur che gli permette di avere un crisi di dps ma non solo anche quella safeness quel diciamo escape mechanism che gli permette di andare bello bello in alto e bello bello safe nel momento più opportuno più propitivo intanto livello 12 contro livello 9 7 minuti livello 9 diciamo che non va bene diciamo che sono un po' lenti con la exp perché si stanno fatti proprio prendere in contropiede da questo zero tool e dalla jaina che non ci impiegano due secondi a lanciargli le spell sono incrostati su una lane ma anche se fosse guarda di come vengono killati qualcosa di spaventoso veramente uno steamroll questa partita ai 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 ti puzza di stomp anche te anche se adesso hanno le ulti è buon intervento di keltas su questo tornando non male però al tempo c'è uter che è completamente fuori posizione e cercherà di salvarsi c'è uter uter completamente distrutto ah no era un bot me ne sono accorti in questo istante ha un problema di disconnessione esatto e non hanno pausato a quanto pare non è stato fatto mi ricordo il super slam diciamo che è una cosa che io personalmente a livello di fair play non approvo per niente focusarsi su un bot beh dipende se viene chiamata la pausa o meno se viene chiamata amen beh questo è chiaro però la prima cosa che farei d'avversario è darglielo è anche vero che gli avversari ovvero gli inferno stanno aspettando circa una ventina di minuti da quanto mi hanno detto stanno aspettando proprio gli avversari da 20 minuti quindi vedremo un po' come se la caveranno vedremo un po' secondo me il fair play qui è un po' ostico da attuare non aspetti 20 minuti non c'eri non mangi io sono io e quindi appunto giudico anzi più che altro più che giudicare dico e parlo non so come definire questa ultimate da parte di Johanna buona per iniziare ma senza un follow up preciso e quindi si ritrova come una ulti senza senso e senza grosso impatto almeno per quanto riguarda a livello di teamfight stessa infatti stanno letteralmente stompando stanno stringerollando come dei matti gli vanno in faccia tranquillamente prendono i right click riescono a killare fanno le loro cose cioè gli inferno sono completamente ci sono anche addirittura 4 livelli di differenza si vede si nota anche che fra le due squadre c'è un divario abbastanza grosso nel frattempo intanto arriva il tempio in top in mid scusate che era già startato prima ma se ne sono dimenticati non solo potrebbero farsi un boss senza neanche essere contestati intanto vediamo Zeratul che sta aspettando lo scudo su qua oh mio dio non aspetta neanche lo scudo è spaventoso spaventoso questo Zeratul veramente 5 livelli di differenza Zeratul può anche non avere lo scudo in questo momento scioglierebbe tranquillamente Tassadar Uter addirittura Falstad non neanche a parlarne quasi però quasi Falstad beh è scappato si si c'era vicino ma ancora non molto ovviamente secondo me dovrebbero esatto ingaggiare su questo boss prepararsi diciamo attuare il piano in cui mettono pressione bottom lane poi vanno mid sfruttano yard avversari quindi bruiser avversari e successivamente chiudono la partita questa sarebbe per me diciamo l'andazzo migliore ovvero il modo in cui bisognerebbe impostare questa partita tu cosa ne pensi? si però adesso come riesco per come la vedo io ormai la partita è chiusa e decisa a meno che non si disconnettano dall'altra parte a meno che non facciano il come beccone diciamo dell'epocale ma la vedo abbastanza dura già da questo falstad lo vedo matematicamente impossibile mamma mia mamma mia veramente veramente beh hanno recuperato un livello anche perché hanno l'expo aggiuntiva garantita dalla differenza dei due livelli però ormai di inferno si sono lanciati a capofito sul core si sono arrivati tranquillissimi toc toc chi è un boss che distrugge che distrugge completamente Gioanna grazie al suo Aoi Stan e che dire anche l'inarrestabile di Gioanna l'Iron Will ha permesso di chiudere questo game polla perfetta piroblast piroblast tu non prendi piroblast su Keltas è una regola è una regola d'oro proprio per quel motivo che ha illustrato Gioanna iceblock ciao ciao con la manina e intanto succede ripetiamo l'importante è mettersi in gioco l'importante è farsi valere e farsi vedere in game in torneo perché di certo i tornei non campano con 4-5 team e questa è una cosa che ribadirò sempre quindi complimenti comunque per i FIAR che intanto sono lì tanto se le stanno facendo dare in live ma se le stanno facendo dare con